Allora, questa è fantastica perché è una di quelle notizie che servono un sacco a farti sentire bene dentro quel bel calore familiare che ti fa dire Ah, giusto, bene e poi capisci che è tutta fuffa Facebook, Twitter, Google e Microsoft hanno fatto sapere ai comuni mortali di aver intenzione di firmare il codice di comportamento dell'Unione Europea contro l'Hate Speech una roba che si cerca di far passare e che prevede il vaglio e la cancellazione entro 24 ore di qualsiasi commento, post, foto, meme, qualsiasi cosa che si categorizzi appunto come Hate Speech quindi tradotto a caso istigazione all'odio Bene, sentite quel calore familiare giusto finalmente una legge che levi l'Hate Speech da internet, no? Eh, il punto è che esattamente come dicevamo giorni fa su Unedited riguardo alle forze dell'ordine mentre parlavamo della scorta a Saviano gli organi di polizia, che in questo caso sarebbero però dei tizi annoiatissimi a una scrivania che schiacciano l'icona del cestinetto molto meno epico e non ti danno nemmeno un'arma, che merda sono figure di prevenzione la gente si comporta bene perché sa che ci sono delle repercussioni nel caso faccia cagate Ora, l'Hate Speech equivale a fare cagate e non c'è dubbio e l'istigazione all'odio è di per sé già qualcosa per la quale si potrebbe incappare in problemi legali ma su internet avviene lo stesso di brutto perché poi è difficile perseguire tutti e c'è ancora un generico clima di impunità è la sola idea che la risposta a questo problema si ha l'impegno a cancellare entro 24 ore qualsiasi commento ritenuto hate speech è innanzitutto impossibile perché la repressione da sola non funziona mai se non insegna la gente come si deve comportare stai lottando contro gli zombie e 2 siamo sicuri che sia ok perché negli ultimi anni social network hanno tutti più o meno deciso di affrontare il discorso non a livello qualitativo ma quantitativo se domani postaste una foto mentre adorate satana state sicuri che probabilmente non succederebbe nulla nemmeno se uno dei vostri contatti su facebook dovesse segnalarvi ma contemporaneamente qualsiasi foto casuale venga inondata di segnalazioni verrà tirata giù in modo pressoché automatico perché, hey, se in tanti segnalano qualcosa di sicuro quel qualcosa deve essere sbagliato, giusto? no, non è così che funziona siamo su internet tutti sono continuamente offesi per tutto sempre esempione su twitter è pieno di foto di cazzi tette, gente che si infila cose nel corpo chi inneggia il genocidio chi è all'islamofobia i suprematisti bianchi tutti ci sono tutti tranne, caso di ieri sera ancora irrisolto Dav Putin KGB un profilo parodia del leader russo così noto che la notizia della sospensione dell'account è finita su politico sono un fan di quella pagina satirica palesemente satirica c'era anche scritto nella descrizione quindi sono un po' scocciato a livello personale ma soprattutto disinformazione sì pseudoscienze ok minacce varie no problema ma guarda caso questo profilo che faceva incazzare tutti i fan di Putin e che è stato segnalato in massa senz'altro non va più bene parola di twitter che dovrebbe in 24 ore rimuovere tutto l'eatspeech dalla piattaforma ok parlando di social ieri è saltato fuori un sito particolare per varie ragioni uno era identico a una vecchia versione di facebook in tutto e per tutto una copia spudorata due era stranamente ostato in Corea del Nord cosa che è di per sé curiosa perché nel paese del buon Kim già internet è ipercontrollato e soltanto alcune persone selezionate lo possono usare e in genere i pochi siti accessibili sono comunque seduti in server cinesi in questo caso no perché ci trovavamo di fronte a una versione nordcoreana di facebook che ovviamente poche ore dopo essere stata scoperta è stata anche hackerata hackerata nel senso che uno studente scozzese ha provato alcune password ed è riuscito ad accedere agli strumenti di amministratore inserendo come user admin e come password password lo studente che si chiama Andrew McKean ha poi raccontato a Motherboard un sito gemello device news che si occupa di tecnologia di aver quindi avuto per qualche tempo a disposizione tutte le funzionalità dell'admin tra le quali leggere tutte le conversazioni degli utenti anche private censurare parole gestire la pubblicità e cambiare il nome del sito cosa che ha fatto ovviamente e poche ore dopo il sito è andato offline ovviamente morale della favola cambiate le password password non è una buona password e potrebbe anche essere che qualche altro vostro adatto sia in giro perchè salta fuori che nel 2013 c'è stato un gigantesco furto di informazioni da MySpace MySpace molti di voi potrebbero non averlo nemmeno mai visto funzionante quindi potreste fregarvene altri immagino saranno più preoccupati di sapere invece che i dati di login di una parte di utenti del sito sono finiti sul notiforum online della... scena hacker per usare una terminologia attinente alla freschezza del sito silenzio era una battuta fantastica vai in camera tua il punto è che MySpace ha messo il breach soltanto adesso che i dati sono in vendita per la cifra di 6 bitcoins che sono un po' più di 3000 euro al momento ed è seguita a ruota da Tumblr che allo stesso modo 3 anni fa ha subito un gigantesco furto che è emerso soltanto adesso e che ovviamente nessuno si era premurato di far sapere fosse avvenuto o però entro 24 ore cancellare late speech eh? senza dubbio internet è la tua insaziabile voglia di Hitler e gatti ah parlando di gatti c'è un progetto su Kickstarter che non potete perdervi ammirate signori la ragione per la quale l'isis ci odia si chiama leaky brush ed è una lingua di plastica che indossate per leccare il gatto in modo da creare a sentire le parole degli inventori un più profondo legame con l'animale simulandone il comportamento naturale ma è l'idea più stupida che abbia mai sentito shy lo è? lo è? si lo è lo è ma non secondo le 1555 persone che hanno innaffiato gli ideatori con ben 30.000 dollari e mancano ancora 25 giorni quindi c'è questo leaky brush fantastico volete prendervela con dei genitori? peraltro in riferimento a quelli del bambino che è caduto nella gabbia del gorilla ho visto molti di voi prendersela con loro nei commenti dello scorso video e secondo me è anche un po' ingiusto farlo sì sarebbero dovuti stare attenti sì tecnicamente la responsabilità è loro però incidenti ai bambini ne capitano capitano di continuo è fisicamente impossibile stare vigili ogni secondo mi sembra ingiusto dar così tanto addosso ai genitori non è che abbiano lasciato il figlio a morire sotto al sole o in un bosco in un bosco ad esempio come quelli di Yamato Tanuka il bambino giapponese del quale si parla un sacco di 7 anni che da 4 giorni è disperso che significa morto dopo essere stato mollato per 5 minuti perché si era comportato male per insegnargli una lezione in un bosco i genitori lo avrebbero al ritorno da una gita ci ha fatto scendere dalla macchina e finto di abbandonarlo che è una cosa che spesso si fa con i bambini capricciosi vuoi andare da solo? va bene vai da solo e che lo si fa in genere controllando il bambino almeno da lontano non risalendo sulla macchina e sgommando verso l'orizzonte lasciando tuo figlio in un bosco dove ci sono gli orsi e infatti il bimbo dopo 5 minuti era scomparso senza acqua o cibo e temperature che scendono a 7 gradi e dopo 4 giorni ancora non lo si è trovato e probabilmente se lo si ritroverà dubito che lo si ritroverà in condizioni ottimali quindi cioè questo questa è negligenza e infatti è una storia terribile in Giappone ne hanno subito fatto un caso nazionale in ultimissimo parliamo due secondi di migrazione giusto due parole qualche cosa che mi ronda in testa sta sorvolando ovviamente sulla vicenda divertentissima di Salvini e Trump che si fanno la foto assieme poi l'americano dice di non conoscerlo e di aver fatto la foto con lui come comunemente fa con tutti e il leader della Lega che ribatte che non è vero e che si conoscono molto bene insomma una roba tristissima che fa ridere i polli tacchini gallinacci di vario tipo proprio pieno di polli pisciandosi da ridere e tiro fuori i due personaggi proprio perché buona parte della loro politica è antiimmigrazione ora io non ho una posizione netta nei confronti dell'immigrazione ritengo da una parte che le persone siano delle risorse e che quindi flussi se regolati possono trasformarsi in impresa, lavoro, tasse, prodotto interno lordo, ricchezza allo stesso modo ritengo che l'immigrazione debba essere gestita in modo intelligente senza populismi e senza ruspe e millantate invasioni ovviamente ma mi sembra pacifico che le economie nazionali siano dei sistemi delicati e vadano controllate con delicatezza non so dove questa mia posizione mi collochi nello spettro politico sinceramente una cosa che ho trovato super interessante a tal proposito è un articolo di Repubblica che cita uno studio della fondazione Leone Moressa che si occupa di tematiche economiche che sottolinea come gli immigrati in Italia che non sono moltissimi pesino in modo significativo sul gettito fiscale che significa che pagano molte tasse anche se la quantità di nero è comunque alta e la gente è impazzita dietro questi dati principalmente perché secondo me in molti non hanno nemmeno letto l'articolo come al solito sparando poi le solite cagate sui migranti che rubano il lavoro il punto è che ovviamente l'articolo parla degli immigrati regolari che non vengono sfruttati dagli italiani cosa che avviene principalmente al sud ad esempio le famose piantagioni di pomodori a incidere moltissimo sarebbero i romeni che sono la maggior parte degli immigrati in Italia a seguire albanesi marocchini e cinesi per un gettito soldato di IRPEF che è l'imposta del reddito famosissima di 7 miliardi l'anno il che dovrebbe renderci contenti ma a quanto pare non ci rende contenti questo perché si ha l'impressione che questi soldi vengano dal lavoro di sfruttamento come quello appunto della famosa raccolta di pomodori il caporalato tutta quella merda lì è così ovviamente quelle persone vengono sfruttate in nero se no non sarebbe sfruttamento sono tecnicamente degli schiavi e quel sistema sottolinea l'incapacità italiana di accogliere in modo positivo ed elastico l'immigrazione perché se scapi dal Ghana e l'unica cosa che il sistema italiano ti offre è una casetta di plastica e una favela si impuglia qualche problema c'è punto 2 c'è molta confusione su immigrazione illegale quindi il permesso di soggiorno per ottenerlo devi lavorare da qualche parte dopo che l'hai ottenuto paghi le tasse quindi ti integri e bla 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 immigrazione clandestina quindi boh entri sei senza documenti ti arrangi ai lavori in nero e rifugiati che sono quelli che scappano e che bisogna accogliere perché nel loro paese sono in pericolo di vita che hanno un costo per lo stato ovviamente in Italia è circa 35 ore al giorno in Germania 18 nel Regno Unito 7 e trovo stranissima l'idea che molti hanno del lavoro in Italia come se i posti disponibili fossero un numero limitato come delle caselle prestampate e quindi prima gli italiani eccetera e non è esattamente così non stiamo giocando a tombola il lavoro si crea con l'imprenditoria privata che può significare anche persona che parte dal Pakistan arriva in Italia apre un negozio il negozio va bene e assume qualcuno boom due posti di lavoro che prima non c'erano ma può anche significare imprenditore cinese che apre una fabbrica a Prato che ce ne sono 874 miliardi e quindi paga le tasse in Italia dando lavoro in Italia anche quello è positivo l'importante è che le regole si rispettino e in Italia questo discorso non lo fa nessuno io non lo sento quello che a me sembra manchi nel nostro paese è la capacità di accogliere queste persone in un sistema che dia loro delle possibilità proprio perché non dà possibilità a nessuno è la ragione per la quale gli stessi italiani diventano tutt'oggi immigrati in altre parti del mondo dove è più facile fare impresa ad esempio o dove c'è più richiesta di lavori umili ma se tu investi in modo intelligente le persone diventano una risorsa perché no l'economia si espande parliamo di questa roba anche se io in realtà non ho molte speranze e lo dico da esponente di una regione che è sia tra quelle che meno offrono opportunità in Italia in assoluto sia tra quelle più escluse dal fenomeno migratorio anzi forse la più esclusa se evitiamo di considerare Basilicata e Valle d'Aosta che sono molto piccole e il Melise che non non ho veramente idea di cosa sia e questo gentaglia è tutto per oggi grazie per aver guardato non abbiate paura di esprimere le vostre opinioni anche se sono molto dissimili dalle mie è comunque importante e grazie ai nostri tre alfieri di oggi che sono di Gorizia ma ci mandano questa foto da Pordenone sono Stefano Brian e Gabriele apparentemente la foto è stata fatta al frog bite una sorta di lampardi gigantesco con 160 players fantastico quindi è tutto io sono Shooter Hates You questo era Breaking Italy ci vediamo domani alle 18 ci vediamo